Ciao a tutti, in questo video parleremo di 5 trucchi che ti possono essere utili per cercare informazioni all'interno di Google. Partiamo subito col primo trucco, il primo trucco che sembra semplice ma anche allo stesso tempo indispensabile nel momento in cui stai cercando informazioni. Facciamo una ricerca esemplificativa, scriviamo Silvio-Berlusconi. Come potete vedere inserendo questa parola meno Google mi dà la possibilità, mi fa visualizzare nella sostanza tutte le pagine dove non compare, dove non sono collegate con l'argomento quindi di Silvio Berlusconi. Al contrario invece se noi volessimo invece cercare delle pagine dove proprio l'argomento che vogliamo tenere in considerazione è quello di Silvio Berlusconi, quello che dovremmo fare è semplicemente aggiungere dopo il termine di ricerca Silvio, in questo caso a titolo esemplificativo, la parola più e inviare e avviare nuovamente la ricerca. Come potete vedere qui Google mi fa visualizzare tutte le pagine quindi che sono attinenti appunto al nostro ex premier Silvio Berlusconi. Ma andiamo avanti, un altro trucchetto altrettanto interessante sono le virgolette. Facciamo un esempio concreto, se io per esempio faccio che la forza sia con te, la famosa insomma frase inserita all'interno di virgolette, quello che mi farà visualizzare Google sono le pagine dove si possono trovare questa frase qui per intero e questo è molto interessante ad esempio nel momento in cui state per esempio cercando ad esempio delle citazioni o delle parti all'interno di un testo musicale o quant'altro. Se per esempio non sapete una parola o quant'altro oppure volete cercare delle frasi che sono diventate famose che sono similari a quella che state cercando basta semplicemente inserire l'asterisco ecco qui e avviare la ricerca. Come potete vedere quindi la parte dei risultati di ricerca da parte di Google vengono modificati e mi danno, mi da per l'appunto dei risultati che sono diversi, non solo che la forza sia con te ma anche per esempio che le forchette sia con te che prima non era assolutamente visualizzato. Ma andiamo avanti, un altro super trucchetto secondo me veramente molto interessante è questo, è l'operatore site. Allora innanzitutto è possibile utilizzare nel momento in cui fate delle ricerche su Google degli operatori che sono delle parole che si aggiungono generalmente alle keyword che ci permettono di fare delle ricerche più precise e mirate per ottenere delle risposte da parte di Google più interessanti a quello che stiamo per l'appunto cercando. Il site serve appunto per restringere la ricerca ad un dominio specifico, quindi noi quello che dobbiamo fare è usare per esempio il termine ricerca, come in questo caso Amazon, possiamo utilizzare Shopify o altro termine ricerca che a noi ci interessa e indicare site, due punti, il nome appunto del sito internet e come potete vedere qui ci fa vedere per l'appunto le pagine dove questo termine ricerca per l'appunto compare. È un aspetto molto interessante nel momento in cui per esempio stiamo analizzando per esempio un sito internet, raccogliendo informazioni ad esempio nel sito internet e vogliamo ad esempio vedere quali pagine ad esempio, leggere ad esempio alcune pagine specifiche di un blog. Andiamo avanti, un altro super operatore sempre molto interessante è il file type. Allora immaginate di voler per esempio scaricare e trovare non so delle fatture esemplificative, immagino che volete trovare ad esempio dei pdf relativo a un specifico argomento o dei documenti doc. Generalmente queste sono le estensioni che sono supportate. Quello che dovrà essere fatto è semplicemente scrivere quindi il termine di ricerca file type, cioè il tipo di file, due punti come in questo caso pdf. Nel caso in cui per esempio volete un file excel e scrivete xlsx o ad esempio un file powerpoint, pptx o per esempio un file microsoft word, docx ad esempio. Questi sono ad esempio delle estensioni che sono naturalmente supportate. L'ultimo ma altrettanto veramente interessante operatore e spesso utilizzato ad esempio nel momento in cui volete cercare ad esempio dei siti che sono similari ad altri per poter accogliere delle informazioni, per poter ad esempio trovare delle informazioni relative a altri fornitori similari è il type related. Vediamo subito un esempio pratico. Eccolo qui. Se ad esempio volessi cercare ad esempio dei siti internet che sono similari a facebook basta semplicemente che digito related.facebook.com e trovo google. Mi fa visualizzare dei siti internet che sono però appunto dei social media similari a quello che stavo cercando quindi linkedin, tinter, pinterest eccetera eccetera. Bene ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando cliccate like. Se volete altri video ad esempio similari su alcuni trucchi relativi a google o relativi ad altri siti insomma scrivetemi nei commenti sotto a questo video qui. Ricordo la cosa molto importante iscrivetevi a questo canale e condividete questo video con gli amici. Per questo video è tutto ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao